Esse portavano via il pane, le tavole e le coppe da cui dovevano i pretendenti arroganti. È un peccato che la memoria storica non conti, che una civiltà come quella greca, come si organizza un rito agli dèi, che tipo di armamento indossare, alcuni archeologi hanno addirittura ricavato informazioni circa l'organizzazione di un orto. Ed esce Atena, Atena esce già pronta, bardata con lo scudo, l'elmo, è già tutta pronta. Dopo dieci anni di una guerra che non finiva mai, una bella mattina i troiani che stavano sempre con la testa penzoloni fuori dalle mura, il lucente, che è un po' una sorta di Ferrari di allora, lui è costretto a rifiutare perché dice «Ma non potrei portarmi lì ad Itaca?» e ripiegò sulla cugina Penelope. In questi casi uno avrebbe dovuto accontentarsi della cugina Racchia, Corsa. No, non è vero. Quando il sole si è fatto vedere su quei morti e quelle case bruciate, sono arrivati tre o quattro uccelli che sono scappati via dalla paura, che si infilavano nella carne e facevano un male boia. Ma non era mica un sogno, no? Era vero. Se per caso non vedendole ti faranno domande. Di loro che dal fumo le hai tolte? Perché non sembravano più quelle che un giorno, partendo per Troia, Uluscio lasciò Ulisse, ma si sono annerite fin dove la vampa del fuoco le sfiora. Il canto è il diciannovesimo. Ulisse è ritornato, si è fatto riconoscere solo da Telemaco e il cane Argo che lo ha riconosciuto ed è stremato ai suoi piedi, avendo anche un figlio da loro che chiamò Pan, che in greco significa proprio tutti. E allora lui si è scoprendo, si è tradito come fosse un ospite illustre e guai a chi di coloro lo attormentasse invidioso. Più nulla a che fare avrebbe fra noi, anche se orrendamente è la savira, dove tutti i passanti compiono offerte. Grazie.